è stato ritrovato il ragazzo che era scomparso in zona euro a roma diffondere la sua foto sui social network era stata un'amica di famiglia che aveva rivolto un appello agli utenti amici di roma questo è il figlio di un mio carissimo amico si legge in un posto pubblicato su facebook era a roma eur e doveva tornare ieri a genova ma non si è fatto più sentire i suoi genitori sono molto preoccupati se lo vedete fatemi il piacere di contattarmi o di avvisare subito le forze dell'ordine grazie infinite i genitori ne avevano denunciato la scomparsa le forze dell'ordine lo stavano cercando nella capitale contattando le sue amicizie secondo le primissime notizie il ragazzo sarebbe stato ritrovato da una guardia giurata